ciao salve a tutti un saluto vediamo velocemente il grafico sul titolo fiat chrysler in time frame daily candele giapponesi e il solito macd allora il presupposto è che dopo questa area di triplo massimo si è avuto una forte discesa del corso dei prezzi e secondo me adesso stiamo vivendo un pullback anche ben strutturato e potrebbe non essere terminato dico questo perché siamo su un'area di evidente resistenza statica in area 16 euro dove appunto vediamo come questo livello sia stato resistenza poi supporto supporto adesso siamo in fase delle test è vero che non abbiamo un pattern particolarmente chiaro per un ingresso short ed è anche vero che il macd qui sotto ha incrociato al rialzo e ha ancora spazio per arrivare vicino alla linea dello zero e quindi pur salendo ancora ci segnalerebbe che non è tornata in ottica rialzista il prezzo quindi cosa dobbiamo vedere che questa resistenza statica appena indicata è anche una resistenza dinamica abbastanza chiara vediamo come da questa trend line sia supporto varie volte rottura quindi resistenza di nuovo pullback quindi l'area di 16 euro è sicuramente una doppia resistenza un'area molto difficile da superare però vediamo come in generale il mercato sia tonico in questi giorni e quindi a questo punto se vogliamo tentare un'operatività a ribasso confidando su questo triplo minimo e questa forte discesa secondo me possiamo sperare che questa resistenza sia rotta per andare poi a prendere i 17,50 17,60 circa che null'altro è che una nuova chiarissima area di resistenza eccoci qua supporto supporto rottura resistenza che combacia corrisponde a 61,8 di Fibonacci quindi operatività per conto mio adesso è flat perché qui non ho un chiaro in pattern o segnale di bassista su eventuale rottura è possibile che si possa andare a prendere quest'area nuova di resistenza 61,8 di Fibonacci e qui diventa estremamente interessante andare a cercare poi l'ingresso short un saluto a tutti ciao ragazzi